Ci si ritrova a Nardi Ci si ritrova a Nardi per la quarta prova di quello che è l'Umbria Master Cross 2015, si è cominciato da Petrignano di Assisi per andare a Città di Castello, a Petrignano di Assisi l'organizzazione curata dall'UC Petrignano, a Città di Castello l'organizzazione curata dalla Bikeland, poi Pieve a Presciano in provincia di Arezzo, sconfinamento per quanto riguarda l'Umbria Master Sport con la Technicolor Vernici e poi si arriva a Nardi Scalo dove è iniziato tutto. Il ciclo cross è cominciato proprio qui a Nardi Scalo con Roberto Bianchetti, con il team Ruota Libera, con questa voglia di organizzare il ciclo cross nella nostra regione e qui si ritorna in questo 2015. C'è chi prega, c'è chi si concentra, c'è chi scherza alla partenza, gli allievi con gli esordienti, con quelli che sono la categoria G6 per questo 2015, la categoria donne che corrono e poi ci sono anche i maschi. Io ho detto donne perché poi dopo la Laura Sopranzi dice guarda che non sono le femmine, sono le donne che corrono, ci sono bellissime donne che sono qui a ricordarmi che non sono femmine. Però io dico, ma scusate, se la G6 è femminile, la G1 è femminile, se quella è femminile, allievi femminili, eccetera, eccetera, ma perché la categoria dobbiamo chiamarla donna unica invece che femmina unica? Vabbè, insomma, sono discussioni che facciamo sempre un po' più per prendere in giro che per volontà vera di discutere qualche cosa. Allora, siamo a Narniscano, il parco che ha visto iniziare il ciclocross con Roberto Bianchetti che torna a organizzare dopo tanto tempo un'avventura di ciclocross. Siamo tutti estremamente felici di questa avventura. Ci sono anche i piccoli che correranno con il ciclocross, con quella che è la loro avventura. Ma intanto andiamo a vedere allievi, maschi, femmine, Alessandro Cresca, team Eurobici di Orvieto, Andrea Ercolani del team Cycling di Città di Castello, terzo è Riccardo Bacocco del team Eurobici di Orvieto, insieme a Raffaele Giorgio e Luca Taschini, tutti orvietani. Sesto posto per Alessio Tognelli, team Cycling di Città di Castello. Alex Erellini, settimo Néstor Seamarsciano, davanti a Martina Cozzari della Petrignano. Caris Cosentino del team Cycling di Città di Castello. Riccardo Sensi della Petrignano. Alfonso Izzo, undicesimo della Arezzo Bike. Ce n'erano un bel gruppo di allievi, uomini, donne, maschi e femmine. Per la categoria donne unica, che va da 17 anni in poi, Marica Passeri della Cavallino Specialized chiude il suo percorso con 42,40. Con 42,51 il secondo posto è per Laura Sopranzi del centro bici team di Terni. Terza posizione per Sabina Marinucci del team Eurobici di Orvieto, 47,57. Poi Federica Severi della Nestor Seamarsciano e Carmelina Esposito della Bikeland Team 2003. Questo per quanto riguarda la categoria delle donne unica. E poi andiamo a vedere anche come sono andate le cose per la categoria degli esordienti. Guido Draghi, Arezzo Bike, il tempo per lui di 23,50. Con 10 secondi di ritardo arriva Giovanni Cosentino della Gubbio Ciclismo Mogagliana. Terzo è Edoardo Crocesi della Capobianchi Ciclimoto con il numero 88. E poi Nicolo Cardinali, numero 84 del gruppo sportivo Luciclone con il tempo di 25. Netto Roberto Marcheggiani della Gubbio Ciclismo Mogagliana è quinto davanti Alessio Pantalla dell'Uciclone. E poi settimo Luigi Foglianesi, Arezzo Bike con il compagno di squadra Edoardo Ochini, nono Tommaso Bazzica dell'Uciclone. E decima posizione per Giampaolo Retarvi della Fontana Anani che chiude dunque il gruppo della categoria esordienti. La G6, la vittoria per Lorenzo Conti della Ternana Ciclismo, vince un concorrente ternano nella categoria G6. Il tempo di 19,32 per il numero 135 Lorenzo Conti davanti a una straordinaria Letizia Brufani. Il gruppo sportivo Luciclone di Foligno, 19,34 ad appena due secondi testa a testa per il numero 134 Letizia Brufani. Marco Capputi del Team Bike Miranda chiude con la terza piazza davanti a Matteo Zanchi dell'SGL Carbon. Andrea Assensi dell'Uciclone in quinta posizione precede Martina Severi del Massa Martana, Alessandro Pastorelli, Gubbio Ciclismo Mogagliana a settimo, Federico Tardioli del Foligno Start e poi Daniele Piselli, Nestor Seamarsciano, Rosario De Grazia dell'SGL Carbon, Ivan Izzo della Rezzo Bike, Daniele Platoni della Nestor Seamarsciano e Sabina Sabatini del Team Bike Miranda. e poi andiamo a vedere la categoria Junior con Mattia Zoccolanti, Bike Land Team 39,42 il tempo per lui, il numero 18, secondo posto per Samuele Reggidori, San Cascianese Ciclismo 40,04 al tempo finale, il numero 16 del casco e poi Lorenzo Pasquarelli, Avis Gualdo Tadino con il tempo di 40,30 il numero 17. la categoria Master salta alla categoria Master 4 con Marco Gorietti della Petrignano, il numero per lui è il 63,36 e 54 il tempo, Paolo Innocenzi della Petrignano con il tempo di 38,16, numero 156 anche lui della Petrignano e Fattris la Petrignano con Luca Agostinelli. e poi Carlo Arcaleni della Bike Land davanti a Gianluca Tomassini della Petrignano, Mauro Cozzari della Bike Land Team, Danilo Colarieti della base Terni Bike Shop, Germano Cozzari, ottavo della Petrignano, Vanni Pasquetti della Leonardo Racing in nona posizione. Nella Master 5 la vittoria per Paolo Sebastiani, Bike Land Team 38,33 il tempo finale davanti a Lorenzo Rosati nella categoria Master 5 Petrignano con 41,25 e poi Fabrizio Cavalieri della Luigi Metelli, Giampaolo Giannini dell'Avis Prato Vecchio che chiude in quarta posizione nella Master 6, Carlo Battistelli che è stato campione italiano della categoria, quest'anno corre con i colori della Petrignano, tempo finale di 38,50 e il numero 59 il suo pettorale, Stefano Sarti arriva con 58 secondi per la base Terni Bike Shop e poi Giancarlo Rivaroli della Petrignano in terza posizione, Pietro Angeletti, Team Bike Miranda, quarto davanti a Paolo Dionigi della Petrignano, Sandro Chieruzzi, Avis Amelia, Mauro Vigna, Bike Land settimo e poi Giovanni Pagliochini della Bike Motion in sesta posizione. Ci sono anche i ragazzini, non ci li dimentichiamo, Master 1 andiamo a dargli tutti i protagonisti, così poi dopo raccontiamo anche quello che è accaduto nella categoria dei più giovanissimi che sono davvero tanti, guardateli quanti sono agli ordini del nostro Frexotto che li mette insieme per la fotografia. Master 1, Alessio Polidori, Bike Land Team 2003, Benedetto Cepitelli, Luigi Metelli con il numero 21 secondo e poi Federico Ruggeri con 57,31 ma a un giro di distanza con il numero 22 in terza posizione. La Master 2, Matteo Donati che va davvero sempre più forte con il ciclocross, Bike Land Team per lui numero 27, 56,36 il tempo finale, davanti a Cristian Melis del gruppo sportivo dell'esercito con un secondo appena di distanza in volata. Arrivano i due. Master 3, Alberto Laloni, e qui bisogna togliersi il cappello per il signore Alberto perché va davvero forte e fa davvero belle prestazioni nel mondo del ciclocross, così come lo fa con la mountain bike. Numero 41 per Alberto Laloni della Petrignano, tempo finale 57,30. Secondo è Michele Marsiglietti della Bike Land Team con il numero 42. E poi andiamo a vedere il resto del plotone, ci mancava da ricordare quelli che sono gli elite e gli elite li ricordiamo subito con questa straordinaria prestazione, bisogna ricordarla di tutti perché sono stati davvero tutti quanti molto bravi e si sono impegnati davvero tanto. Leonardo Caracciolo alla fine fa meglio di Alessio Buraccioni per l'associazione sportiva Uco con il numero 8 è Alessio Buraccioni, il numero 6 per Leonardo Caracciolo nella categoria Master Sport. Igor Vigiani del team Vallone con il numero 7 chiude in terza posizione. Gli elite, dicevamo, Leonardo Chieruzzi fa il Giro d'Italia ciclocross, fa delle belle prestazioni, oggi è venuto a vincere e ha vinto davanti a Paolo Pavoni del team Copo Pavoni con il numero 3 per Leonardo Chieruzzi il numero 2 e terzo arriva Flaviano Mogavero della Technicolor Vernici Vaio con il numero 1 che chiude con dunque il gradino più basso del podio. A vista media per Leonardo Chieruzzi il tempo per lui è di 55.22 con 8 secondi di vantaggio nei confronti di Paolo Pavoni e andiamo a vedere quello che è accaduto nella categoria dei più piccoli con la categoria G1 Giacomo Serangeli SGL Carbon ruota libera sono loro i protagonisti Edoardo Bolletta Foligno Start arriva secondo terzo Mattea Gagliardoni De Luciclone poi Alessandro Tardioli Foligno Start Adrian Zwiniel della Nestor Seamarsciano Giorgio Ricci e qui si continua la schiera della famiglia Ricci a fare ciclismo Eurobici Orvieto e poi Emanuele Attodini della Nestor Seamarsciano categoria G1 G2 femminile per quello che è lo short track per il ciclocross categoria G2 maschile e femminile corrono insieme Tommaso Francescangeli De Luciclone vince davanti Leonardo Galassi della Cucco in Bike ancora Luciclone per Giuse Daniel Notari che arriva terzo e poi Tommaso Spaccini della Nestor Seamarsciano in quarta posizione la categoria della G3 maschile e femminile Tommaso Bianchetti qui torniamo dopo le preparazioni della prepartenza con papà Bianchetti che gli diceva mi raccomando la prima curva devi farla così non staccare mai cerca di cambiare eccetera Tommaso Bianchetti vince per i colori del Ruota Libera con il numero 46 con i tre giri davanti a Simonele Scappini Nestor Seamarsciano terzo è Vittorio Friggi anche lui del Ruota Libera e poi Alessandro Bruno suo compagno di squadra e poi Raffaele Cosentino Gubbio Ciclismo Mocajana Emanuele Viziello della Foligno Start Tommaso Alunni dello ciclone Giulia Rossini della Nestor Seamarsciano categoria G4 con Edoardo Rulli dello ciclone che va a vincere bravo Edoardo Rulli davanti a Thomas Perotti il nostro squalo che ce l'ha messa tutta per cercare di contrastare quello che era la forza di Edoardo Rulli arriva secondo Thomas Perotti del Ruota Libera Samuele Zanchi anche lui del Ruota Libera Terzo e poi Marco Izzo Arezzo Bike Riccardo Donati anche lui del Ruota Libera SGL Carbon Daniele Rossi del Team Bike Miranda e poi I3 della Nestor Seamarsciano Lucrezia Angelo Amadio Francesco Amadio ed ora l'ultima che è la G5 per i giovanissimi vi ricordo che è il trofeo Ruota Libera di Terni siamo a Narniscalo splendido il parco del comune di Narni qui è nato il ciclocross lo ricordiamo a tanti che ci stanno seguendo le prime gare sono state qui di ciclocross poi al parco delle grazie a Terni ma tutto è nato da quella mente di Roberto Bianchetti che andava a Roma a seguire il Roma Master Cross di ciclocross e diceva ma perché non ne vogliamo organizzare anche noi in Umbria le gare di questo genere e da lì è nato l'Umbria Master Cross categoria G5 con la vittoria di Riccardo Ricci Team Eurobici di Orvieto secondo Matteo Laloni dell'Uciclone terzo Raffaele Mosca Nestor Seamarsciano questi tre ce la faranno vedere davvero bella quest'anno nella loro categoria Tommaso Rondini dell'Uciclone in quarta posizione davanti ad Asia Ranucci Team Eurobici di Orvieto Luca Massarelli del Ruota Libera SGL Carbon davanti a Zaccaria Mostarda del Team Bike Miranda e poi Federico Serangeli anche lui del Ruota Libera SGL Carbon anche qui siamo con i figli d'arte quando a quei tempi correva papà Serangeli non correva il piccolino Serangeli Francesco Castaldo dell'Arezzo Bike il nono davanti a Jacopo Sargenti dell'Uciclone e poi abbiamo Camilla Rossini Nestor Seamarsciano in undicesima posizione Gianluca Amati del CT Massa Martana Chiara Perrina dell'Arezzo Bike Valentina Friggi dell'SGL Carbon Ciclismo questa è la categoria dei giovanissimi che hanno partecipato guardate come se la giocano e come se la tirano belle davvero belle davvero Roberto Bianchetti va lì a vedere la vittoria conquistata per questa giornata questo short track sono tanti bambini presenti a Narniscalo ci fa davvero piacere che siano un numero così alto per questo che è l'avventura del 2015 tutti quanti un po' stanchini è vero un po' stanchini lo siamo tutti e poi via si riparte fa un certo effetto vedere correre i piccoli della categoria giovanissimi fino a qualche tempo fa erano tutte mountain bike recuperate dagli scantinati e dalle cantine ci ne sono ancora di mountain bike che girano ma sempre di più sono le bici da ciclocross che i ragazzini che i ragazzini usano tra l'altro c'è questa possibilità di fare un intero campionato invernale con lo short track si gira un po' in giro per tutta l'Umbria domenica prossima si andrà a Nocera Umbra dagli amici della Nocera Bike e anche lì ci sarà davvero da divertirsi ma l'importante è che si fa attività si continui a fare attività anche in inverno un tempo ci si fermava i ragazzini non correvano più poi piano piano si è cercato di riportare i ragazzini all'interno del circuito di ciclocross e adesso li ritroviamo qualcuno ha la mountain bike lo vedete in questo caso con la front ammortizzata qualcuno usa una biammortizzata qualcuno usa le più leggeri bici da ciclocross però bisogna ricordare che non è facile portare una bici da ciclocross sono tanti ragazzini che hanno una mountain bike per divertirsi tutti i giorni e la bici da strada per fare il trofeo Procacci per i giovanissimi e si cerca insomma di fare tutto il possibile la vittoria qui arriva con il numero 40 per quanto riguarda la categoria della G4 se non andiamo errato Leonardo Rulli dell'Uciclone con il numero 40 Thomas Sperotti arriverà secondo con il numero 36 per i colori della ruota libera SGL Carbon e poi Samuele Zanchi della ruota libera SGL Carbon in terza posizione fa effetto rivedere i piccoli tanti sono figli d'arte li abbiamo visti correre Roberto Bianchetti un pochino meno nel mondo del ciclocross perché quando venivamo qui a Narni lui organizzava e non correva però Serangeli e tutti gli altri insomma hanno fatto anche loro del ciclocross e adesso ci sono i piccoli che crescono i piccoli che vanno sempre più forti e poi la partenza della G5 la gara che era la più attesa con questi tre che vi ho detto con Laloni con Ricci e con Mosca che sono davvero tre bei concorrenti li vedete tutte e tre delle prime posizioni più staccato c'è Ricci se non andiamo errati in questo momento vediamo passare la la ragazzina che corre per i colori dell'Eurobici di Orvieto l'Asia che va davvero molto bene questo bisogna Asia Ranucci del team dell'Eurobici di Orvieto che ha il numero 30 di pettorale Riccardo Ricci al numero 29 team Eurobici Matteo Laloni il numero 25 Raffaele Mosca il numero 23 e poi quarto arriverà Tommaso Rondini dello ciclone con il numero 26 però sono davvero tutti forti la rimonta con una partenza fulminia da parte di Laloni la rimonta di Ricci così come era accaduto nell'ultima gara che avevamo seguito al campionato italiano di ciclocross c'era una gara anche per i giovanissimi eccolo qui 25 Laloni 29 Ricci più staccato c'è Mosca ma se la stanno giocando davvero testa a testa fa fatica si fa fatica a fare ciclocross si chiama short track questa sorta di disciplina pochi giri perché sono davvero massacranti Mosca passa con il numero 23 eccolo in questo in questo momento e la gara è stata davvero lunga e tirata sono pochi giri ma sono davvero difficili da fare e poi alla fine tutti gli altri c'è il team Miranda eccola qui la nostra Asia Ranucci che porta sempre il copricapo sotto al casco e via via tutti gli altri che arrivano piano piano al traguardo la vittoria come dicevamo è per Ricci che taglia da vincitore il traguardo ancora un passaggio per Asia Ranucci e poi ci aspettiamo dopo il suono della campanella spuntare fuori la maglia gialla e nera dell'alfiere del team Eurobici di Orvieto l'inquadratura anche per Mosca che va davvero molto bene anche nel Cilocross va bene anche sulla strada si leva belle soddisfazioni quest'anno sarà un bel terzetto da tenere da tenere d'occhio e poi come dicevamo prima aspettiamo questa conclusione del trofeo ruota libera siamo a Narni Scalo l'inquadratura è per Ricci che oramai ha preso il largo in seconda posizione c'è l'Aloni e vince dunque tagliando il traguardo Ricci con l'Aloni in seconda posizione c'è da fare lo sprint per quelle che sono le posizioni dietro e arriva anche l'Aloni bravo l'Aloni complimenti bravo l'Aloni complimenti arriva un po' arrabbiato al traguardo queste sono le immagini che ci riportano nuovamente al ciclocross a quello che è la seconda partenza i ragazzini corrono tra la prima e la seconda gara è quasi impossibile poter seguire entrambi le gare anche se ce la mettiamo tutta però vi dovete accontentare delle immagini che vi regaliamo in questa giornata facendo attenzione a quello che è il duello per quanto riguarda la categoria più grandi dei più grandi con il postino volante con il nostro Stefano Sarti e poi c'è la White Bull al completo che è venuta a trovare a Narni Scala Roberto Bianchetti per la foto di Rito dietro ci sono quelli della categoria Elite e Master Sport con Caracciolo che passa in questo momento alla Cacciatora e poi la maglia di campione italiano di Caracciolo che ce lo ricorda davanti a Pavoni che è in seconda posizione per quanto riguarda la categoria degli Elite piano piano arrivano tutti lo speaker era il nostro Fabrizio Amadio che ci ha tenuto compagnia per tutta la mattinata poi c'è stata la premiazione all'interno di quella che è la struttura del parco di Narni Scalo qui come dicevamo negli anni passati ci venivamo spesso a seguire le corse non partiva solamente il ciclocross c'era anche la mountain bike a quei tempi se ne faceva tanta di attività eh sì che se ne faceva tanta di attività e mi ricordo che un paio di anni ci siamo venuti anche per fare la corsa su strada però la mountain bike era davvero qualcosa di straordinario per andare intorno al comune di Narni e qui a Narni io ci ho lasciato una scapola una clavicola e secostole ancora me lo ricordo sono tempi lontanissimi ma i dolori restano e i dolori ci fanno capire come crescono le persone come crescono i piccolini che non c'erano a quei tempi adesso invece raccontiamo le loro gesta e le loro avventure però il ciclocross mi pare che non sia minimamente cambiato come volontà di partecipare come partecipazione come nonostante il periodo invernale ci sia la voglia e la volontà di andare a correre bravo a Roberto Bianchetti al suo negozio del Ruota Libera di Terni bravo a tutti i suoi collaboratori del team Ruota Libera e della SGL Carbon per aver organizzato una manifestazione di questo genere e per averci riportato indietro un po' nel tempo in quella che era la patria del ciclocross ancora una volta le immagini vanno per il nostro Chieruzzi che è stato autentico dominatore di questa giornata ve l'ho già raccontato corre e ha corso il Giro d'Italia di ciclocross con buoni risultati è un ragazzo che si impegna bravo anche nello studio e che si può dire di più con papà Sandro credo che mi sono meritato la scena per gli elogi che sono stati fatti ah c'è da ricordare Caracciolo campione italiano la maglia tricolore conquistata ad Orvieto ad inizio della stagione questo successo meraviglioso in terra ombra in occasione dei campionati italiani e bisogna ricordare che non smentisce Caracciolo la sua qualità da Elite Master Sport di continuare l'avventura nel ciclocross le premiazioni con il finale piacevole per tutti mettiamo i piccoli perché se lo meritano siamo qui a Narni per raccontare soprattutto l'avventura del team ruota libera SGL Carbon sul podio della categoria G5 quel terzetto che vi abbiamo detto che ritroveremo nelle nelle piste del trofeo 2015 giovanissimi per sapere chi saranno davvero i protagonisti di questa stagione il premio ruota libera il trofeo ruota libera va ovviamente ai migliori di questa giornata e ai migliori non possono essere che quelli del ruota libera tutti quanti insieme sul podio foto finale con Roberto Bianchetti e adesso le interviste di fine gara veramente un grande spettacolo una grande manifestazione devo ringraziare Roberto Bianchetti Gianluca Cerangeli Tatiana tutto il team ruota libera perché veramente ci sono impegnati tantissimo per fare della gara una grande festa i bambini sono sempre un grande spettacolo e abbiamo visto che catalizzano l'attenzione anche di chi segue l'attività degli adulti perché quando c'è la gara per i giovanissimi sono tutti lì ad applaudire ad incitare i ragazzi e questo è il segno della festa è il segno che ci fa piacere che questa attività si possa fare nel periodo invernale insieme agli adulti e anche ai bambini per una grande attività di fuoristrada una grande attività di ciclocross minicross e devo dire che anche il biglietto di auguri del comitato regionale è impegnato sulla multidisciplinarità sull'attività fuoristrada quindi un riconoscimento anche per questa attività importante qui era cominciato il ciclocross e qui è tornato il ciclocross eh Roberto? eh sì siamo stati 4-5 anni senza e poi qui è un posto fantastico siamo voluti tornati e ti ce la ricordiamo quell'avventura di come era nato il ciclocross in Umbria eh voglio se me la ricordo è stata dura portarlo in Umbria poi adesso ha preso via lo spettacolo sono i bambini tu c'hai una bella squadra quest'anno no? sì 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 spettacolo sono i bambini infatti l'abbiamo fatto per loro principalmente anzi quando sono andato da Carlo a parlare in federazione intendevo fare solo la gara per i bambini poi dopo lui mi ha convinto a farla anche ai grandi eccoci qua che abbiamo fatta chi vogliamo ringraziare? ma io ringrazierei i ragazzi qui dell'Avis il comune di Narni e il gruppo della GS Carbon che ci ha aiutato a fare tutto il tracciato sono stati veramente molto carini hanno passato il sabato qui e stamattina alle 7 sono stati i primi a arrivare grazie a tutti